Mi fai una domanda? Non mi fai una domanda? Allora, sono con Sandro Capitanio, segretario dell'MF Liguria, con il quale l'MF sta raccogliendo le firme alla festa del PD di Genova e chiediamo a Sandro Capitanio come stanno andando le firme, come i cittadini stanno raccogliendo questa iniziativa e le reazioni nei confronti della proposta. In genere abbiamo delle adesioni abbastanza vaste, non numeri altissimi come sempre perché è difficile da spiegare rapidamente con poche parole ai cittadini che passano che cosa stiamo facendo. Dobbiamo anche dire che c'è molto scetticismo sulla politica in generale. Qualsiasi iniziativa viene vista con un po' di sospetto e quindi riuscire a rompere la barriera ci vuole sempre un po' di tempo. Però chi capisce è d'accordo, sa che questa è una buona iniziativa. Sta andando bene all'infine? Sì, sta andando bene e soprattutto ci consente di pubblicizzarlo al massimo, incontrando persone della città di un po' di tutti i tipi, sia quelli che conosciamo che quelli che non conosciamo e quindi facciamo quello che occorre fare, diffondere al massimo, far sapere che esiste questa iniziativa e spiegarla. D'altronde è un'iniziativa dei cittadini europei? Il fatto che sia dei cittadini è un aspetto di forza di questa cosa, perché la gente non ha tanta fiducia nelle forze politiche in quanto tale. Ok, grazie.